Voi siete gli artigiani della meraviglia e della festa, arricchite la società di tutto il mondo portando con voi la misericordia e l'amore di Dio nei vostri spostamenti. Così Papa Francesco ha salutato i partecipanti al giubileo dello spettacolo viaggiante nell'Aula Paolo VI, dopo aver ammirato alcuni saggi delle loro abilità. Lo spettacolo viaggiante e popolare è la forma più antica di intrattenimento, ha detto il Papa, rivolgendosi agli artisti di strada, giostrai e burattinai presenti, è alla portata di tutti ed è rivolto a piccoli e grandi, all'insegna della cultura dell'incontro e della socialità nel divertimento. Gli spazi di lavoro dell'artista di strada sono per definizione luoghi di aggregazione e fraternità, ha proseguito il Pontefice, perciò siate sempre accoglienti verso i piccoli ed i bisognosi, seminando bellezza in un mondo a volte cupo e triste. E voi non potete immaginare il bene che voi fate. un bene che si semina. Voi seminate questi semi, semi che fanno tanto bene a tanta gente e che voi forse mai conoscerete. Ma stiate sicuri, voi fate questo e grazie di questo. Grazie. Grazie.